L'annosa vicenda dello spezzettamento delle sedi in cui si amministra la giustizia a Bari. Problemi risolti e risvegliati dal nodo del luogo in cui celebrare un grande processo proprio come quello sulla Banca Popolare che si terrà alla Fiera del Levante. Ne parliamo in studio con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefani. Bentrovato. Buongiorno. Presidente, allora un impasse tale che il Sindaco De Caro è stato costretto a bussare alla porta del Quirinale? Assolutamente. Innanzitutto un plauso al Sindaco De Caro che ha il sostegno non soltanto mio personale ma di tutto il Consiglio dell'Ordine, dell'Avvocatura e della Magistratura barese per aver chiamato in causa un soggetto importante per il nostro ordinamento perché il Capo dello Stato è il primo garante dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali sanciti nella nostra Carta Costituzionale fra cui appunto quello alla giustizia. Quindi la funzione primaria dello Stato, la giurisdizione compromessa nel nostro foro in una situazione di assoluta insostenibilità e precarietà quindi ha fatto bene il Sindaco De Caro a chiamare all'attenzione del Capo dello Stato. Cosa significa amministrare la giustizia peraltro al tempo del Covid in un palazzo come quello di Via di Oguardi o di Piazza De Nicola? Il Covid non ha fatto altro che accendere i riflettori su una situazione già precaria e drammatica. La giustizia da noi viene esercitata, svolta in palazzi assolutamente inadeguati non soltanto la giustizia penale ma anche la giustizia civile e quella minorile e quindi è giusto richiamare l'attenzione delle autorità preposte a risolvere questo problema che significa far ripartire la giustizia in un territorio come quello barese che vede il sacrificio che può diventare inutile degli operatori della giustizia. Il commissariamento è l'unica strada, che cosa chiedete? Assolutamente sì, noi lo chiediamo dal primo momento e siamo contenti che il sindaco De Caro con noi in questa richiesta, come è avvenuto in altre parti del nostro paese il commissariamento è la soluzione a risolvere opere strategiche che speriamo che trovino sede nel Recovery Fund e quindi nello stanziamento di risorse straordinarie. Grazie, grazie al Presidente Stefania e buon lavoro a Canosa.